Per me ti dici di fare cambio? E poi non vedi come si muove? E' se giro! Figaro si gira Spettatori Buongiorno Dall'alto ai piedi E' strano che non è in giro in moto vestito così Perché diciamo che è vestito così anche in moto da strada Un panettiere Un panettiere turco Sei sicuro? Vabbè, noi ti mettiamo su YouTube anche a te Come non ce ne sono più? Ok Ok